In poco più di un'ora i medici dell'USCA del distretto sanitario 60 di Nocera Inferiore hanno sottoposto al tampone covid circa 150 persone, un numero importante che però non ha evitato alcune polemiche per il ritardo, circa un'ora, con cui le operazioni sono iniziate. Ieri pomeriggio era in programma nel drive-in ricavato dall'area del consorzio di bonifica di Nocera Inferiore lo screening per il personale docente e i collaboratori scolastici. A tutti era stato detto di presentarsi alle 15, ma il personale sanitario a quell'ora non c'era. Nel frattempo le auto in attesa ammontavano a vista d'occhio, ingolfando gli accessi sia da via Atzori, lato Pagani, sia via Grimaldi, via Gabola e il ponte che dà su via Napoli. Alle 15.30 le operazioni non erano ancora iniziate e le persone hanno iniziato a spiasentirsi. Qualcuno ha fatto marcia indietro, andando via e imprecando contro un'organizzazione che evidentemente faceva acqua da diverse parti. Anche gli uomini della protezione civile comunale hanno avuto il loro da fare cercando di contenere le lunghe file di automobili ed evitare che venisse coinvolto il traffico cittadino. Finalmente il serpentone ha iniziato a muoversi. Il primo tampone è stato effettuato alle 15.49, quasi un'ora dopo l'orario di convocazione. Lo screening è terminato alle 17.15.